Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a mille like, condividete il video e iscrivete al canale Se no vi lascio il hashtag Brawl Stars per sotto i momenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Oggi poco fa, un paio di ore fa circa c'è stato l'annuncio dell'aggiornamento e della nuova manutenzione E' già stata fatta ed è stato fatto un cambiamento, anzi diversi cambiamenti importanti Sono stati fatti dei bilanciamenti, un nerf che ancora non mi riguardava Perché il Brawler io ce l'ho ancora a basso perché non l'ho ancora alzato Ovviamente sto facendo una alla volta per recuperare tutto il tempo perduto Ma c'è un power up che a me è piaciuto tantissimo perché è pocio Quindi oggi posso dire pocio è stato potenziale Alleluia, ma andiamo a vedere cosa è stato fatto nella manutenzione di oggi E' stato migliorato Sam, zanne metalliche aumentate Quindi abbiamo un buff, aumentate leggermente la carica della super ottenuta dall'impatto Con il guanto, questo è il miglioramento Bea aumentata la salute di pochissimo, di 100 abbastanza ridicolo come potenziamento Maxine 300 punti vita non sono da sottovalutare Non sono per niente male comunque Carl piccone danno aumentata a 7,40 Un bel potenziamento comunque raga Veramente tanto Il nostro bellissimo pocio amato pocio Gadget di apason cura aumentata al 10% di salute massima al secondo dall'8% Questo 2% sembra una piccola cosa ma è un cambiamento importante Anche l'altro gadget melodie protettive durata aumentata a 4 secondi da 2 secondi Quindi anche questo gadget è stato raddoppiato alla durata Quindi non è per niente male Bonnie aumentato di un po' il danno Non di tantissimo ma comunque in lungo andare si dovrebbe sentire Aumentata leggermente la carica della super Byron Danno e cura aumentati a 380 da 340 Un piccolo aumento che cambia relativamente Comunque basterà per tic ovviamente Indebolimenti Eccolo qua Larry e Laurie è arrivata alla sua ora Velocità di colpi aumentata a 300 da 150 E fino a mo' mi sembra velocità di colpi aumentata Cioè questo è un buff o sbaglio Ah no è il contrario ovviamente ci vuole più tempo Ok gadget ritirata tattica Cura ridotta al 25% dal 33% Diciamo si ma poteva essere anche un pochino meglio L'Ori danno del taser ridotto a 150 da 300 L'hanno rovinato ragazzi pesantemente L'Ori ridotta del 50% alla carica della super ottenuta dai proiettili Interessante Peerl Gadget Cuor di male Danno ridotto al 25% al 33% Quindi il nerf che hanno fatto anche al gadget di Larry e Laurie Piper Salute ridotta a 2003 Vabbè di 100 non è niente Colette Velocità di carica dell'overdrive diminuita dal 30% dal 40% E questo se sente il 10% è una buona percentuale di cambiamento Poi hanno fatto delle modifiche importanti alle classificate I giocatori singoli che affrontano squadre ora ricevono punti classificati come se giocassero contro giocatori Con classifica simile Quindi vuol dire ovviamente che se ci troviamo in una situazione dove di là sono e dalla mia parte sono magari più alti Io potrei prendere perdere punti come quella squadra con cui sto E invece in pratica adesso giocando singolarmente io avrò i punti in base alla mia soglia di livello Ok? Nella classificata Ora le vittorie danno sempre una quantità minima di punti classificati E anche la quantità massima di punti classificati guadagnati Per le sconfitte è stata ridotta Quindi è stato fatto un bilanciamento di questi punti che andremo a prendere Apportate modifiche generali alla distribuzione dei punti classificati per ridurre l'inflazione Questa probabilmente è una cosa un po' interna da comprendere Allora risolto il problema Questo è... ci sono degli aggiornamenti opzionali che poi ci stanno qui Risolti di problemi Risolto il problema con il numero finale dei trofei in fuga con trofei Dopo che i giocatori si eliminavano a vicenda contemporaneamente Cosa strana Si buggavano perché facevano contemporaneamente uccisione? Risolto il problema in fuga con trofei Sempre in quella modalità Per cui all'ultimo giocatore rimasto in piedi veniva mostrato un numero diverso di trofei Nella schermata finale della battaglia E questo è un bug visivo ovviamente Probabilmente poi alla fine vi dava i punteggi esatti Risolto il problema per cui alcuni club venivano visualizzati nelle classifiche dei club locali Con la classifica sbagliata Questo è interessante anche perché siamo tutti un po' competitivi anche con magari i club Quindi trovarsi nella posizione sbagliata Gli altri le guardano e dicono Vabbè chissà che club è Insomma è una giustata che ci può stare Allora io direi di fare un pochino di prove Mi vado a fare qualche partita con Pocio E magari potenzia anche l'Hourer Lory Che non l'ho mai potenziato Quindi non so manco fino a dove lo posso portare Andiamoci a fare una bella partita con il mio Pocio Punk Rock Veramente bello con la chitarrona Ovviamente ho messo l'abilità per aumentare una delle cose del gadget Quindi ne ho quattro Ovviamente perché Vado molto support Per provare anche il gadget Vai Mi ci muori Mi ci muori Siamo morti in due Eppure avevo attivato pure il gadget E vabbè comunque Il dynamite che si sa Quando te pia con quella bombetta So guai Ok Allora io vorrei curare lui Oh Ne sei bloccato il personaggio Non so per quale arcano motivo Per un attimo c'è avuto problemi con Con i movimenti Ok questo lo eliminiamo Vai così Il mio compagno Titan 1 Se è bloccato pure lui Andiamolo a curare Grazie Ho ancora due gadget Diciamo che uno l'ho usato un po' a sbuffo prima Lo posso dire No Ma dai Ma perché mi si blocca L'amico Cioè il nostro compagno Si è fermato lì così Senza motivo Ok Oh Aiuto No questo stava a morire male Ok lo curo Vai 740 di vita a botta Tanta roba regà Tanta roba Il 10% in più Oh Aiuto Mamma mia Non t'ho preso per un pelo Lo so Mi viene la cosa da attaccarli regà No Mannaggia Non ho fatto a tempo Eh il dynamite Tanta robina Pure lui Oh No Mi curo col gadget Lo so che è uno spreco Però è da fare Oh Oh Che volete fare a me Ok Uno non l'ho curato L'altro si Eccolo Mamma mia Eliminazione Belle Vai così Dai che la vinciamo Dai che ce la portiamo di cattiveria a casa Tanta roba Non ho giocato neanche benissimo Devo dire Vai Nostra Fammi c'è una seconda partita Con pocetto Oddio di là c'è un altro bocio Che è pure più alto di me No No Le classificate Ok Siamo rovinati Non vedo tank Non abbiamo dei tank Loro non ce l'hanno uguali Ok Almeno Ne si che ce l'hanno invece C'hanno rosa Rosa Aiuto Liscio Ce ne abbiamo una fk Dai pure la fk Leon Su Che cattiveria Eh niente Ragazzi ci abbiamo la fk E non lo posso neanche riportare Perché sono partite normali Dai cattiveria Tanta Lag Regala No no mia Che scemo Sono pirla Posso dirlo che sono pirla? Ok Aia Sono dovuto curare Però non riesco a vince Mica eh Leon Te svegli Grazie Oh Gentilissimo Gentilissimo Era un attimo ora Che ci dai una zampa Eh però quello mi c'è moremo Oh oh Ok Me curo Senza attaccarlo Ok Tanta roba Ehi L'ho curato ma non ce la faccio Mi sa Non ce la faccio Ok Vediamo un po' se riusciamo a Tenergli un attimo Abbata Eh vabbè però Come si è fermato Daniel Ma fa una gara a chi si ferma? Non ho capito Vai A te te elimino Io Mamma mia Tanta roba Sei svegliato Leon Ragazzi Sei svegliato Leon Al momento giusto Cerchiamo di salvarli Eh lui non ha preso la cura però No Perché Ok Ok Curato Va bene così Portato a casa Ciao Mi dispiace Nostra Allora ragazzi La prima volta che provo Larry e Lori Ovviamente L'ho livellato Fino al 9 Perché non potevo fare di più Sfortunatamente E ho messo gadget Abilità stellare E tutto il resto E mo vediamo che cosa combiniamo Allora ovviamente Non sono livello altissimo Mi sembra sono 97 Una cosa ridicola E vediamo se riusciamo effettivamente A portarci a casa Qualche situazione Non ci credo troppo Ok Ho evocato il suo doppione Ovviamente Farà delle abilità specifiche Io ancora non so Molto bene Vai così Mi sono avvicinato Al mio doppione Da quello ho capito Ok Sono rimasto vivo io però Tanta roba Tanta roba È morto però Ok Vediamo un po' se riusciamo A fare qualcosa Sembra che si siano arresi Perché ugualmente Abbiamo fatto Un bel po' di danno Vai così Quella Shelly L'ha dietro Nascosta Ci credeva Eh vabbè Sto bombardino Non sa giocare Probabilmente Oppure si è arreso Sta dicendo Vabbè dai Eliminateci Tanto è finita così Shelly Manco 10 avvicini Manco 10 avvicini Ed è pure Ne è fatto sto coso Allora posso dire Che comunque C'ha il suo Perché Ok Ci siamo scambiati E ho curato pure lui Anche se non serviva Era giusto per capire Come funzionava il gadget Vabbè Dominio Dominata Ok Andiamo A provare anche La raffa gemme Sono andato su quelle lì Del giorno Che è il falling star Quindi stelle cadenti Perché almeno I livelli sono misti Quindi anche se sono Basso di livello Potrei trovare gente Con delle capacità Di gioco maggiori Ovviamente Più verso il mio Che magari è 600 come il livello Ok Per ora mi sto Facendo un attimo Pressare Ma anche i nostri compagni Si stanno facendo pressare Sinceramente Non so Se è un'ottima occasione E quello Ci ha un attimo Un attimo provato Bravi Passateci sopra Ok Ho evocato Il mio doppio Vai L'ho pure curato Ma per adesso Devo dire che Per non averlo mai giocato Me la sto cavicchiando Eh Non vorrei dire Ok Mi sono riavvicinato Il mio doppio E così mi sono curato Se comincio a capire Un po' la logica E questo è Ennerfato Regà Ammazza Complimenti Bel personaggino Tanta roba Ok Io rievoco Chi è Chi è Boom Quella è stata Una bella botta Quella l'hai sentita Eh Quella l'hai sentita 100 100 No Non ci andà Ti prego Stiamo a vincere Non ci andà Niente eh C'è prova Regà C'è prova Ok E niente Gli piace Combatterla Va bene Portata a casa Uguale Ragazzi Per essere la prima volta Che provo Questo personaggio Effettivamente Aveva bisogno Di un nerf E tuttora Sinceramente Mi pare molto forte Ok E Pocho Ho notato il cambiamento La cura È aumentata Mettendo ovviamente L'abilità che mi mette Un gadget Di più di cura Ha dato una grande mano Ovviamente sono scarso Devo riprenderci la mano E tutte le cose che volete Però Si sente comunque La differenza Allora ragazzi Questi erano gli aggiornamenti Le ranked Non ve le faccio vedere Perché tanto il cambiamento Sarebbe anche impercettibile Vi dovrei far vedere Anche le schermate Con i punti Arriviamo a mille like Condividere il video Scrivete al canale Se no vi lasciate Hashtag Brostars Con sotto un commento Per ricevere un cuoricino E ditemi il vostro parere Su questo aggiornamento E su questi bilanciamenti Per ricevere un cuoricino E su questo aggiornamento